Nuova settimana e nuovi inizi. Il 20 febbraio il comune di Caltanissetta ha inaugurato il nuovo portale online che permette al cittadino di tenere sott'occhio o meglio a portata di click le proprie pratiche relative ad esempio alle dichiarazioni IMU, TASI, TARIGE inviate o per la compilazione guidata delle stesse. Tramite portale si prevede la possibilità di effettuare il calcolo dei tributi locali dovuti con relativo F24 e pagamento online degli stessi tramite Pago.pia oppure richiedendo la debito su conto corrente. Consultare la propria situazione anagrafica o posizione tributaria conosciuta dall'ente con il quale si potrà interagire in un certo senso tramite la bacheca messaggi. A proposito di tributi, tra gli avvisi sul sito del comune Nisseno viene annunciato contemporaneamente al lancio del portale anche il prossimo avvio della procedura di riscossione della Tari, tassa rifiuti, per l'anno 2023 ed eventuale conguaglio 2022. Gli importi dovuti dovranno essere pagati o in un'unica soluzione entro il 16 giugno oppure in tre rate. La prima con la scadenza del 16 marzo, la seconda il 17 luglio e la terza il 16 novembre. E mentre in questi giorni cominceranno ad essere recapitati gli avvisi ai cittadini, gli stessi potranno consultare anche online la propria posizione e pagare i tributi. Per accedere al portale online per il contribuente è necessario lo speed o la carta di identità elettronica. Si prevede anche un'ulteriore opportunità, si potranno ricevere notifiche o effettuare pagamenti anche attraverso l'app Io dopo aver configurato la possibilità di ricevere le notifiche del comune. Entro l'estate le funzionalità del portale, si legge sul sito del comune, saranno integrate in un più ampio portale di tutti i servizi al cittadino con una nuova interfaccia grafica. Questa iniziativa rientra nella più ampia azione di riorganizzazione e digitalizzazione dell'attività dell'ufficio tributi del comune Nisseno, che prosegue in questo momento con l'assessore Giuseppe Lamenza, con delega i tributi e sistemi informativi.